Questa era la sua città natale, lui ha molto lavorato e molto vissuto a Firenze, era amico personale di Cosimo, ma in realtà lui si sentiva sempre a retino. La sua casa, quella che lui ha fatto per sé, la casa dove tutti vorremmo abitare, da quanto è bella, è Arezzo. È un legame di sangue quello di Giorgio Vasari, ma che si intreccia anche all'impronta artistica con cui lasciò un ricordo indelebile sulla città. Si intitola Arezzo, la città di Vasari, il percorso di itinerari ed esposizioni articolato in dieci mostre tra opere monumentali e documenti rari, valorizzati in nuovi allestimenti per comporre il quadro della vita e dell'attività di Vasari nella sua città di origine, in occasione dei 450 anni dalla morte. Consentirà dall'archeologia ai tempi di Vasari di comprendere la grande personalità di questo artista imprenditore straordinario che era collegato a Cosimo I, era collegato a Michelangelo e quindi creava un tessuto di conoscenze che lui, come dire, riassumerà nel suo capolavoro che sono le vite degli artisti. Il progetto da maggio 2024 a febbraio 2025 connetterà musei, biblioteche ed archivi aretini per celebrare il pittore, architetto e storico dell'arte divenuto emblema del genio poliedrico tardo rinascimentale. Darà dei percorsi che serviranno anche agli stessi aretini per ritrovare le radici profonde del Vasari con Arezzo, i documenti di nascita, le sue vicende e chiaramente poi i capolavori che ha disseminato in città e nei nostri programmi c'è anche la volontà di riaprire il piccolo corridoio vasariano. Una figura che è vera e vissuta insieme ai grandi ma anche ha fatto la storia e noi dobbiamo continuare a proteggere. Quindi questa per Arezzo è un'occasione secondo me sensazionale che porterà certamente un buon turismo. Fulcro dell'iniziativa, una mostra cura di Cristina Cidini con la collaborazione di Alessandra Baroni che vedrà arrivare o tornare in città opere da collezioni internazionali. La Direzione regionale di musei collabora in maniera molto importante a questo evento avendo tre musei inclusi tra le iniziative, il Museo di Casa Vasari, il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna e anche il Museo archeologico e devo dire che siamo impegnati anche con prestiti alla mostra principale e chiaramente non possono ricordare la chimera che è già stato concesso il prestito a questa mostra nella considerazione che appunto fu trovata qui ad Arezzo all'epoca di Cosimo I del Vasari nel 1553 e che Vasari subito la descrisse e la segnalò diciamo al Duca. Il Museo Oro d'Autore infine omaggerà Vasari a gennaio invitando artisti, orafi e designer a progettare un gioiello o un ornamento pensando al grande artista. E vedremo quindi delle opere penso anche straordinarie dai primi progetti che ci hanno sottoposto.